Prenderà nel via entro pochi giorni i lavori di allargamento della strada provinciale 12 a Ponte Mas. L'opera nel tratto in comune di Sospirolo, compreso tra il ponte e la sede del club della Bozza, verrà eseguita in due stralci da Veneto Strade e ammonta a circa 700.000 euro stanziati dalla provincia. A darne notizie il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon. Diciamo che a brevissimo, le notizie che ci arrivano, inizieranno i lavori di questo fantomatico allargamento che doveva partire subito dopo il rifacimento del ponte del Mas, che però per una serie di lungaggini, soprattutto collegate al Covid, siamo arrivati adesso, però io ringrazio la provincia perché ha anche trovato i notevoli soldi che mancavano per poter chiudere il progetto e farlo completo. Dal punto di vista pratico verrà eseguito un ampliamento della carreggiata in fase successiva. È programmata la costruzione di un marciapiede. Inoltre il comune rifarà ex novo tutta l'illuminazione, garantendo così massima sicurezza a chi transita in uno snodo delicato della viabilità in Valbelluna. Ci sarà sicuramente qualche disagio, questo è fuori dubbio, e vedremo un attimo, visto che possiamo contare anche sul fatto che c'è il ponte di Sasmus, vedremo come gestire al meglio la cosa, soprattutto per i mezzi pesanti. L'importante era avere questa possibilità che finalmente questo tratto sia messo in sicurezza.